Ciao ragazzi, benvenuti all'Open Day di Liceo Novello. Ora insieme ad alcuni miei amici vi porteremo a fare il tour della scuola. Andiamo! Questo è l'altra della scuola e come potete vedere si riuniscono insegnanti e studenti. È un luogo molto accogliente e vivo. Come potete vedere questa è la nostra palestra ed è un luogo molto importante per il liceo. È un luogo dove possiamo giocare a basket, pallavolo, infatti vedete la rete, ma non solo questi sport ma molti altri. Come potete vedere questo è il nostro giardino in cui siamo usciti a fare l'intervallo. E concederci un momento di relax e soprattutto nei momenti più, nel stagione più calda possiamo anche giocare partite di calcio e fare lezioni all'aperto successivamente anche nei gazebi. Allora, questo è il laboratorio di fisica. Ci sono molti strumenti che si utilizzano per vari esperimenti. Questo ad esempio è l'armadio utilizzato per mell'ultrastatica, mentre laggiù in fondo c'è uno strumento per studiare il moto. Questo è il laboratorio di biologia e chimica dove spesso veniamo a fare degli esperimenti quando dobbiamo fare scienze e potenziamento. Abbiamo qui in dotazione dei microscopi e abbiamo anche degli esperimenti che sono stati fatti. Infatti qua possiamo vedere delle provette utili per studiare la separazione di un miscuglio. Qui invece è presente un esperimento riguardante l'umidità relativa del terreno. Questo invece è il laboratorio di biologia dove osserviamo le cellule e grazie a dei visori 3D osserviamo l'universo. Ciao, questa è la biblioteca che fa parte del servizio bibliotecario lodigiano. Come potete vedere sono presenti anche molti testi a molto antichi e di una certa importanza. Ciao a tutti ragazzi, questo è il laboratorio di informatica che utilizziamo ad esempio in potenziamento di informatica oppure in disegno storia dell'arte con AutoCAD oppure anche per sviluppare i nostri progetti interdisciplinari nelle varie materie come scienze oppure educazione civica ma anche materie umanistiche. Ciao ciao! Abbiamo anche un laboratorio mobile con i tablet che può essere spostato in ogni aula. Al novello ci dobbiamo impegnare, questo è vero, però ci divertiamo anche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.